Buonasera, buonasera, ben ritrovati al nostro appunto di luce, sempre con Don Roberto Ponti. Buonasera Don Roberto. Buonasera Adriana, buonasera a tutti, bentrovati. Oggi parliamo di un argomento che ci è molto vicino, che è quello della comunicazione e dell'informazione con la sfida delle nuove tecnologie, dei nuovi media e quindi di questo presente che si avvicina al futuro. La riflessione da cui parto è l'impegno che abbiamo a capire che questi nuovi mezzi, queste nuove possibilità di comunicazione, di informazione, di conoscenza, noi ci siamo dentro, ci siamo in mezzo e l'impegno che abbiamo è quello di capire che dobbiamo informarci e formarci per un uso corretto, altrimenti rischiamo di essere invasi da tante informazioni, da tante immagini, da tanti suoni, da tanti messaggi e non orientarci più. Quindi tu dici è una questione di quantità ma anche di qualità, di saper scegliere. Bisogna saper scegliere, bisogna formarsi perché l'informazione, la comunicazione sia una buona informazione, una buona comunicazione perché siamo in un cambiamento d'epoca, Papa Francesco lo ripete tante volte, non è soltanto dei piccoli cambiamenti, è proprio un'epoca che è nuova. Allora dobbiamo avere i mezzi adeguati, la formazione, gli occhi adatti per capire come leggere questa realtà. Come orientarsi in questa nuova realtà. È importante, altrimenti la comunicazione che è abbondante rischia di non essere utile, anzi di diventare qualche cosa di dannoso. Sì, di fuorviante, anche magari di pericoloso. Allora essere formati a questo è un po' un impegno che ci prendiamo come punto di luce, ogni tanto dobbiamo parlare di questo. E sì, anche perché poi il nostro mestiere è anche proprio quello di giornalisti, è proprio quello di comunicare e di informare. E anche le opere d'arte che hai scelto sono opere d'arte nuove in qualche modo, no? Non hai preso il solito quadro? Sì, forse qualche volta le abbiamo già mostrate perché ovviamente sono temi di attualità, l'arte magari ha un po' di tempo prima di, deve prendere un po' di tempo prima di configurarsi bene, però esistono già delle opere d'arte che parlano di questi temi, di questi temi della comunicazione digitale, della comunicazione fatta con i social. Allora, vediamo la prima. La prima è di Matt Maurin, che è un artista, un disegnatore americano, statunitense, e il titolo di questa immagine, di questo quadro è Brainwash. E si vede, si capisce, no? Che cosa non vogliamo proprio metterli in difficoltà, questi social che sono messi un po' in discussione e che fanno diventare nebbiosa la mente di questa persona che era figurata avvolta dal suo cappuccio in questa felpa grigia. Senza un'identità sostanzialmente, no? Di perdita di identità. Non hai cateli, non si capisce che faccia abbia, no? Potrebbe essere la faccia di chiunque. A causa di un'informazione, di una comunicazione forse esagerata e confusa. E si vedono i loghi di Twitter, di Facebook, io non vedo Instagram, magari ci sarà. Eh, vabbè, come dire, penso che vogliono, si vuol dire un po' tutto. Esatto, i social media. Va utilizzato bene. Esatto, va utilizzato bene, sennò ci lava il cervello. Seconda opera. Seconda opera è di un illustratore, Pavel Katsuki, che fa vedere un po' l'utilizzo forzato del media che arriva anche a utilizzare male la persona, nel senso che si utilizza il mezzo di comunicazione contro il bene della persona stessa. Quindi, è proprio... Infatti la persona nera viene tagliata in due dal telefonino. Dal telefonino e poi ci sono delle ombre che sono piuttosto, indicano qualcosa che non è molto positivo. Ecco, c'è quasi un'identità che viene falsata. C'è un uso dell'identità attraverso il mezzo di comunicazione che viene rovinata, che viene messa in crisi. E proprio in questi giorni si parla molto di come attraverso delle false identità si fanno passare delle informazioni, si creano anche delle relazioni che poi fanno male, fanno molto male. Eh beh, ci riferisce all'episodio di Cronaca. Si nasconde dietro delle false identità, si costruiscono magari delle prospettive, un futuro su delle false identità. Che non esistono. Poi emerge la verità e questa fa molto male perché magari delle personalità anche un po' deboli creano queste relazioni facilitate in un certo senso, nascoste da questi mezzi che permettono di nascondersi giustamente. Sì, è come se io mi creo un'identità falsa su un social e poi creo una vita parallela con questa vita identità falsa che non esiste, poi metto di mezzo altre persone, quando queste altre persone scoprono che io in realtà quella persona non esiste, possono crearsi dei problemi grossi. E questa è una sfida, cioè di capire bene come entrare in questo mondo e di farlo con le scelte appropriate, anche con le attenzioni, essere attenti a non farsi giocare da chi magari si presenta in un certo modo ma non presenta la sua verità, la sua identità. E quindi dubitare anche un po' di chi ci troviamo davanti se non ce lo troviamo veramente davanti. Non è necessario, a volte bisogna veramente fare un po' di controlli prima di aprirsi, prima di mettersi in gioco e rivelarsi in modo più profondo. Ecco, questa è un'attenzione che dobbiamo sempre avere. Assolutamente, è giusto dare questa indicazione. Adesso poi hai scelto come al solito due contributi video, uno diciamo laico, l'altro più religioso. Il primo sono dei ragazzi di un oratorio che ci danno anche il loro punto di vista sulla nuova comunicazione, sulla nuova frontiera. Sul modo che si utilizza oggi un po' per la conoscenza e un po' per anche scolastica perché è cambiato tutto nel giro di pochi anni. I riferimenti prima erano le biblioteche, le ricerche, il cartaceo. Adesso nel giro di pochi decenni tutto è cambiato e dobbiamo renderci conto di questo cambiamento. Che cosa significa? I giovani in genere hanno la loro coscienza, quindi si rendono conto di quello che fanno, però ci vuole una percezione ulteriore, capire come serve un controllo, come poi nell'uso delle informazioni bisogna avere anche la capacità di condividere con altre possibilità di informazione per non essere poi magari messi nella condizione di utilizzare notizie false, informazioni non verificate. Allora sentiamo la testimonianza di questi giovani. Vado su internet e la cerco. Scrivo quello che mi serve e su Wikipedia principalmente trovo le informazioni. Poi vabbè, consulto anche altri siti per guardare se le informazioni sono effettivamente giuste. Google, scrivo la cosa e vedo cosa compare. Di solito Wikipedia è uno degli amici più, diciamo, utili. Invece per il resto vedo, di solito ci sono i siti che mi aiutano. Ahimè lo dico, prima io cerco su Google, purtroppo è così. Però spesso e volentieri mi rendo conto che forse anche un po' per l'università, un po' per i miei genitori, un po' per la mia sorella che è molto più grande di me, e ne sa più di me. Ultimamente sto usando di più anche cose cartacee, quindi giornali, libri, oppure se proprio voglio cercare su Google vado a cercare articoli molto più approfonditi, quindi non una cosa come Facebook, non una cosa come il primo articolo di Wikipedia. Quindi vado su internet e cerco la notizia che interessa a me, anche magari tramite siti di giornali o così. Sui social trovi tanta roba che non è vera. Io ne confronto diverse e vedo le cose più simili fra di loro. E poi ovviamente cerco, non so, di chiedere a qualcuno che ne sa qualcosa di più di me e vedo se le cose combaciano in qualche modo. Le cose che combaciano le prendo per, diciamo, vere, anche se in realtà tante volte non è sempre così. Più che altro vedo, magari prendo lo stesso, vado su più siti diversi, se ce ne sono la maggioranza che mi dice la stessa cosa, la prendo per buona. Siamo una generazione che è nata così e purtroppo per fortuna le informazioni ci arrivano molto più rapidamente e quindi perché non usufruire di questa cosa? Beh, la comunicazione prima di tutto deve essere breve. Non perché le cose troppo lunghe, il livello di attenzione, penso che ormai sia a livelli bassissimi. E soprattutto deve essere qualcosa che interessa, che ti fa, diciamo, dire... La prima domanda che mi faccio è perché dovrei interessarmi. Secondo me deve essere semplice. Sintetica, perché poi se ti dilunghi a pagine e pagine io almeno smetto di leggerti. E sì, secondo me è semplice e sintetico e alla fine anche efficace, perché se arrivi dritto al punto, subito uno ti legge anche volentieri. La comunicazione. Allora, la comunicazione secondo me dovrebbe essere più chiara e precisa perché ci sono tante informazioni che vengono date in modo sbagliato e non completo. Quindi le persone si fanno un'idea magari sbagliata dell'informazione che vanno cercando e quindi secondo me dovrebbero essere più ampliate e spiegate meglio. Io la farei su un social. Perché sinceramente credo che si stia andando più appunto sul virtuale, sul qualcosa che non ho bisogno di comprare. Cerco e lo trovo. Credo che il concetto più ricorrente sia comunicazione breve, però se è troppo breve perde anche di profondità. Che dici? Bisogna avere la brevità e la pregnanza. E la pregnanza. La profondità della comunicazione. Cioè l'eccessiva sintesi perde in analisi. Sì, è vero che il nostro livello di attenzione decade velocemente, quindi dobbiamo essere incisivi, dire le cose precise e farle arrivare in poco tempo. Non si può girarci troppo attorno. Sì, sì, probabilmente, anzi sicuramente con i social che la comunicazione è cambiata, anche noi in televisione a volte abbiamo delle difficoltà proprio perché l'attenzione è ridotta e quindi dobbiamo imparare anche noi. Dobbiamo un po' adeguarci a questa comunicazione veloce ma che dia dei contenuti. Che dia anche dei contenuti, esatto. Quindi va bene il ritmo. Che non siano solo slogan. Va bene il ritmo però anche la profondità di quello che si dice non possiamo chiamare. Quindi non solo come lo si dice, cioè brevemente, ma anche cosa si dice. Che poi è anche il problema della politica, che a volte gli slogan sintetici sono più efficaci, però non possono arrivare fino in fondo perché se sono troppo sintetici rimangono slogan. Dobbiamo abituarci a capire bene quello che è il contenuto che si vuole trasmettere, altrimenti si rischia di rimanere allo slogan. Di rimanere allo slogan. Che non è qualcosa che poi lascia il segno per incidere nel cambiamento della realtà. È certo, della società in cui viviamo. Adesso sentiamo il punto di vista religioso del gesuita padre Antonio Spadaro. Sì, lui è un esperto di comunicazione, di teologia. È un intervento che lui ha fatto, come dire, una sintesi di un intervento fatto all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e quindi prende in conto diversi aspetti della nostra realtà complessa dal suo punto di vista. Sentiamo. C'è una grande scrittrice americana, Emily Dickinson, che ha un verso splendido, meraviglioso. I dwell in possibility, cioè abitare nella possibilità. E la possibilità è diversa dalla probabilità. Se noi abitiamo nel probabile, facciamo le cose che possiamo dedurre dal passato, che sappiamo che potranno accadere. Vivere nel possibile, invece, significa essere completamente aperti a un futuro, anche indeducibile, che ci arriva per grazia. E questo è lo spirito della fede. Allora, farsi sfidare dai tempi, essere aperti a quello che succede, trovarsi in una posizione, se vogliamo, anche scomoda. Le posizioni scomode sono il luogo in cui si genera il futuro, anche per la Chiesa. Ma non si tratta di dialogare con le giovani generazioni, quanto è piuttosto abitare il linguaggio che si vive, il linguaggio parlato dalla gente e anche dai giovani. Non bisogna trovare un linguaggio per tradurre, bisogna trovare un linguaggio per vivere, per abitare. Allora, direi, esporsi alle culture giovanili, se vogliamo parlare dei giovani, entrare in un dialogo profondo, ma vitale, non funzionalistico, direi, quasi funzionale a convincere qualcuno. Abitare il linguaggio. Tutto ciò che è giovane, tutto ciò che è nuovo, viene percepito come instabile, o comunque precario, o comunque limitato, non completo. Ma invece bisogna abitare questa limitatezza, se vogliamo, questa condizione precaria. È proprio la precarietà che ci apre al nuovo e al possibile. Siamo chiamati ad abitare nella possibilità. Questo crea suspense, cioè crea una situazione, come dire, di incertezza, di precarietà. Allora, il sapere oggi, specialmente dopo la pandemia, è chiamato a confrontarsi non solo col cambiamento, ma col cambiare il modo di cambiare. Non dobbiamo tornare indietro, ricostituendo una situazione di liaca che immaginiamo fosse quella che vivevamo prima. Papa Francesco, in questo è molto chiaro, dice che dobbiamo essere aperti a un futuro nuovo, diverso, comprendendo anche quello che abbiamo sbagliato. Allora, l'università diventa un luogo ideale per poter ragionare, quindi riflettere sull'esperienza, dove abbiamo sbagliato, come dobbiamo cambiare. Cambiare il modo di cambiare, sembra uno scioglilingua, ma non lo è. Non lo scioglilingua, ma dice qualche cosa di profondo, perché se ripetiamo sempre gli stessi atteggiamenti, le stesse visioni, e cerchiamo di applicarle a una realtà che non è più quella di una volta, non avremo alcun risultato. Quindi anche nell'informazione, anche nella comunicazione, nella conoscenza, dobbiamo capire le situazioni nuove e avere la capacità di leggerle e di abitarci, come diceva padre Spadaro. Non semplicemente di tradurle e quasi trasporle in un oggi in cui non andrebbero più bene. Quindi dobbiamo avere la forza del cambiamento, dobbiamo avere la capacità di capire le nuove situazioni e abitarle con tutto noi stessi. Certo, e quindi questo ci permette, come punto di partenza, da cui abbiamo iniziato la trasmissione, di orientarci poi anche nella serie, nella moltitudine di informazioni a cui ci troviamo di fronte tutti i giorni. Va bene, allora direi che ci fermiamo per qualche istante, diamo la linea alla regia, dopodiché torniamo e vi, come al solito, vediamo qualche consiglio di lettura. A tra poco. Allora, rieccoci, sempre con Don Roberto Ponti, stiamo parlando di come è cambiata e come sta cambiando la comunicazione e l'informazione nei nostri giorni e adesso però vediamo qualche consiglio di lettura. Qualche consiglio di lettura. Il primo prende, come dire, come consiglio un libro di un grande testimone, anche un grande comunicatore. Sono passati oramai tanti anni dalla morte di Don Tonino Bello, un vescovo che ha saputo veramente comunicare con la sua fede, la sua testimonianza di uomo totalmente dedicato all'evangelizzazione, al bene che voleva costruire attorno a lui. Questo libro, La bisaccia del pellegrino, riprende i suoi discorsi ai giovani. Molto interessanti, pieni di immagini, pieni di stimoli per scegliere il bene. Allora, ovviamente, non si riferisce direttamente al contenuto di questo bel libro dell'edizione San Paolo, ma prendiamo un brano di una testimonianza di Don Tonino Bello che è sempre bello riascoltare. È un augurio che va bene per i nostri giorni. Vediamo. Un augurio personale a tutti quanti voi perché possiate vivere felici in comunione con la gente e un augurio soprattutto perché possiate, tanti uomini di buona volontà mi stanno ascoltando, possiate passare dai crinali dell'ascolto, delle emozioni, sui crinali scoscesi della prassi che vi impegnate, cioè che vi sporchiate le mani, che scendiate sul campo, non stare alla finestra a guardare, magari ad applaudire o a fischiare i protagonisti del corteo che si snoda sotto casa vostra. Datevi da fare perché ci sono oggi molte forme di impegno e io credo che se tutti quanti voi darete ascolto anche alle utopie del Vangelo, ai grandi sogni diurni che tanta gente oggi coltiva e rimboccandovi le mani scenderete pure voi in campo, io sono convinto che voi la pace prima che darla agli altri ve la sentirete sgorgare nel cuore come fiume d'acqua viva. Vi auguro pertanto che possiate godere di questa pace, possiate essere operatori di pace e non soltanto i selezionatori delle notizie che arrivano dai fronti della pace, non soltanto i notai di quello che accade nel mondo, non soltanto così, i recettori, i recettori inutili tutto sommato di tutto quello che avviene, ma possiate davvero essere protagonisti a costo della pelle, a costo della vita, protagonisti, spendetevi, spendetevi per questi ideali, ne vale la pena, auguri. Che dice lui, no, che ci si realizza donandosi agli altri e non nelle false realizzazioni. in una delle prediche dei discorsi che sono raccolti in questo libro si parla proprio del... lui invita a cercare il senso della vita, riempire di senso la vita e giocarsela bene. Sì. Ecco, è quello che in altre parole ha detto anche nel messaggio che abbiamo ascoltato dalla sua vera voce. Giocarsela bene, quindi, e che giocarsela bene lui ci dice che è rapportarsi agli altri, donare la propria esistenza agli altri. Visto che stiamo parlando di comunicazione, che è molto ampia e la comunicazione volevo sottolineare che la musica di sottofondo era Morricone e anche quello è molto bello. Una musica che comunica. Che comunica, che accompagna le parole che abbiamo sentito. Secondo libro. Secondo libro è un libro allegato a famiglia cristiana quindi si trova soprattutto in edicola o in parrocchia è di Angelo Comastri sono delle riflessioni che lui ha fatto magari sparse in altri libri già comparsi già disponibili ma raccolte con il titolo L'urgenza di una buona notizia e qui si parte dalla prima grande notizia che è l'annuncio dell'Angelo a Maria quindi la redenzione la salvezza dell'umanità e poi alcuni testimoni sono raccolti come esempi da seguire magari delle situazioni di vita particolari come quella di Benedetta Bianchiporro come quella di un giovane che è andato a Lourdes e ha vissuto una conversione ecco il Cardinal Comastri sa scegliere queste esperienze di vita legarle insieme con la sua scrittura e con la sua parola che entra bene nel cuore e ci aiuta a capire la buona notizia e il fatto che dica l'urgenza è molto bello il titolo dell'urgenza della buona notizia quindi la necessità la rapidità con cui arriva cosa vuol dire con urgenza c'è bisogno di una buona notizia ce ne rendiamo conto tutti che non possiamo essere soltanto sommersi da cattive notizie da notizie che ci mettono agitazione ci mettono ansia ci mettono in quella situazione che poi non si capisce più dove si deve andare e allora si sta male ci si sente a disagio abbiamo bisogno e ci si fa travolgere dall'ansia dalle preoccupazioni abbiamo bisogno delle buone notizie e questo libretto con i suoi contenuti ci aiuta a scegliere a capire come recepire le buone notizie forse con realismo perché gli esempi che dà non sono di situazioni semplici sono di situazioni complesse che però hanno saputo reagire nel modo adeguato per ritrovare la bontà la bellezza anche dove forse apparentemente la buona notizia è difficile quindi anche serve la buona notizia ma serve anche la capacità di trovarla perché a volte non si vede ci aiuta attraverso il Vangelo ovviamente a stimolare a rendere più viva questa ricerca della buona notizia e questa è l'urgenza ci insegna a cercarla visto che ci serve per chiudere la frase del punto di luce cosa hai scelto? il punto di luce ci ho preso una frase di Papa Francesco nei messaggi annuali che vengono proposti per la giornata mondiale della comunicazione questa frase è evocativa rende bene questa è la rete che vogliamo una rete non fatta per intrappolare ma per liberare per custodire una comunione di persone libere spieghiamola stiamo parlando della rete del web che è una rete di connessioni sappiamo come queste connessioni rischiano di intrappolare l'umanità la persona invece quello che il Papa propone è di utilizzare bene la rete quindi la comunicazione tutta la potenzialità della comunicazione di oggi tutta la ricchezza e la forza per liberare per rendere l'umanità l'uomo la donna più liberi e quindi capaci di vivere bene e di utilizzare tutti i doni che sono messi a disposizione infatti lui parla di custodire una comunione di persone libere quindi vivere bene come dicevi tu ma anche nella comunità è questo quello insieme ecco questa si sa che in rete e nella comunicazione cosiddetta virtuale che poi è un virtuale un po' particolare perché siamo tutti messi in gioco per quello che siamo il rischio è quello di isolarsi invece no la rete deve creare unità creare comunione è questo l'obiettivo che ci possiamo dare anche utilizzando bene la comunicazione l'informazione con i mezzi di oggi e quindi creare comunità quindi però non solo virtuale come dicevi tu perché la rete può anche essere prodroma poi di una comunione reale fisica diciamo tutto quello che serve per costruire il bene certo la comunione è una parola di bene perché mette nella possibilità di accrescere quello che noi siamo anche con il contributo di coloro che ci sono attorno nella verità nello scambio reciproco di ciò che è bello di ciò che è vero quindi quando tu dici che ci sono attorno ci sono attorno anche nella rete quindi questo è il concetto tutto crea questa comunione sia nella fisicità sia appunto nel mondo tecnologico e sociale della rete questo papa che parla della rete è molto interessante è un discorso che è collocato nella realtà vera continua l'attenzione della chiesa del papa del magistero sulla comunicazione sulla comunicazione va bene io ringrazio don roberto ponti ringrazio la regia e voi che ci avete seguito e ci vediamo la prossima settimana per un altro appuntamento grazie buona serata buona serata grazie